è giunto un dispaccio urgente da Sir Longarm congratulazioni per come hai saputo superare la tua ultima missione ma sappi che ora ci attende una sfida ben più dura parti immediatamente verso i confini della nostra terra natale portando con te soltanto i tuoi uomini migliori al tuo arrivo ti spiegherò tutto spronando i cavalli fino a quando non sono esausti giungi al fine all'incontro con il messaggero di Sir Longarm che ti impartisce gli ordini le spie comunicano che il ratto sta per tentare il tutto per tutto attaccando le nostre terre deve intercettare e rallentare le sue forze non c'è tempo per organizzare un esercito ma il duca di Buregard, il serpente invierà una nutrita forza per aiutarci in cambio di una spedizione di birra Buregard ha consentito a consegnarci tutte le contee del ratto confinanti una volta sconfitte le sue truppe coltiva del lupolo e prepara la birra da inviare al serpente ma sappi che sarà difficile tenere sotto controllo la popolazione e rispettare i termini dell'accordo usa ogni mezzo a tua disposizione senza porti limiti le forze del ratto devono essere annientate posizione il granaio Sire benvenuti in un'altra missione allora qui dobbiamo ricominciare a costruire da zero cominciamo con un bel granaio qua come giustamente ci ha detto Black Scorpion è probabilmente più furbo mettere i tagli a legna vicini alla foresta abbiamo bisogno di un altro po' di case abbiamo naturalmente bisogno del lupolo perché avete visto che la missione richiede della birra due fattorie di lupolo fattorie, due campi di lupolo due campi di grano ma ho paura che cominceremo a non avere più abbastanza legname molto presto quindi cominciamo prima a mettere giù un fornaio anche se non abbiamo il grano e uno di questi ok, lo mettiamo anche qua perfetto poi ci servirà della roccia ci serve un sacco di roba in questa missione e purtroppo non abbiamo le risorse per quasi nulla e un trasporto perfetto abbiamo messo giù quello abbiamo messo giù quello ma ora serve del grano due ok, perfetto pochissimo spazio per muoverci allora, le truppe nemiche entrano da qui quindi la parte da fortificare sarà questa nel momento non abbiamo nulla per fortificare nulla quindi cominciamo a mandare le nostre truppe qua abbiamo già quasi finito la popolazione quindi continuiamo a costruire una seconda casa perfetto dicevamo un fornaio qui c'è il pane e cominciamo anche se abbiamo abbastanza legname e lo abbiamo mettere sulla prima birreria cominciamo a metterla qua in attesa di ordini non lo colpirò mai sir nessun problema sì ci muoviamo non lo colpirò mai sir arciari pronti frecce pronte potete contare su di noi sarà una passeggiata e ok il primo assalto l'abbiamo superato tranquillamente quindi a questo punto potremmo cominciare a pensare di costruire anche un po' di armi uno di questi e uno di questi perfetto quindi ci servirà naturalmente un'armeria qua di fianco e ci serve del legname per la caserma ci serviranno naturalmente altre fattorie di luppolo altre 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 qui abbiamo il fornaio qui abbiamo la prima birra no i fattori di luppolo sono a posto sono le birrerie che ce ne servono di più anche se qui i lavoratori sono in attesa perché il luppolo non è ancora arrivato un'altra cosa che servirà quasi di sicuro è l'espansione di questo magazzino questo è di troppo leviamolo di mezzo facciamo una se si levano di mezzo ecco uno due perfetto a questo punto vediamo se abbiamo dei sassi serve della pietra non li abbiamo ancora vediamo se possiamo mettere giù una seconda cava possiamo eccola qua officina del lanciere officina del lanciere officina del oddio ho messo giù le officine del lanciere temo proprio di si non penso che mi ridia indietro il materiale va bene faremo più lancieri non che ne servano così tanti serve del legname mi serve più legname sta arrivando un po' di legname fortunatamente serve del legname ne serve ancora è arrivato qualcosina di pietra cominciamo a chiudere qua vorrei fare una porta perché il problema di queste mura è che non hanno un modo per salirci se non monto delle porte anche delle porte inutili ma servono delle porte allora comincerò a chiudere preventivamente il muro qua appena avrò abbastanza abbastanza pietra ecco che sta arrivando altra pietra serve della pietra ok e questo punto l'abbiamo chiuso facciamo anche un doppio muro ora qui ci vorrebbe un'entrata intanto ci dicono che il granaio comincia a essere sul vuoto e ci serve ancora pietra perfetto allora a questo punto ci serve un altro fornaio andiamo a mettere giù un altro fornaio perfetto qui dovremmo avere dei sacchi di farina sì ottimo allora noi facciamo anche tre fornai in realtà oppure quattro perfetto siamo arrivati al più o meno la quota che ci serve abbiamo anche abbastanza per fare un paio di birrerie le mettiamo subito giù non ci sono le persone necessarie per far funzionare questa struttura e abbiamo già raggiunto il limite un'altra volta quindi serve subito un'altra casa andiamo di costruirla questo cos'è il mercato non ho idea di cosa serve allora la complementa di 5 risorse e armi serve del legname ok serve del legname non l'ho usato quando ho provato questa missione prima ma magari può tornare utile vediamo se a questo punto abbiamo abbastanza per ho cambiato idea considerato il recente aumento della paga dei miei soldati ho deciso che dovrai fornirmi più birra è ancora un accordo equo non trovi equissimo allora non ci sono le persone necessarie per far funzionare questa struttura siamo già a 26 si è vero dovevo costruire una casa non l'ho mai costruita eccola qua ok dicevamo è stato appena alzato il livello di birra che è necessario abbiamo giù 2-3 birrerie e ci sono piano piano riempiendo di mano d'opera abbiamo un po' di rupolo abbiamo un po' di legname abbiamo un bel po' di pietra quindi possiamo fare finalmente quella porta per avere questa ecco non me la fa costruire fantastico allora vediamo di chiudere un altro angolo ok qui abbiamo costruito qui proprio non mi fa costruire la porta riproviamo porta porta in questa direzione eccoli qua perfetto giusto in tempo per mandare i nostri arcieri sugli spalti allora abbiamo chiuso qui abbiamo chiuso qui probabilmente ci sarà da chiudere anche qua ma vediamo cosa succede ora allora noi abbiamo messo giù comunque anche già uno di questi questi possiamo cominciare a spostarli i verifici stanno funzionando ne abbiamo giù tre ne mettiamo giù un altro un altro almeno facciamo e un altro ancora perfetto stanno logicamente riempendo di persone il trappello di nemici non è ancora arrivato allora abbiamo un muro qui abbiamo un muro qua vediamo se possiamo mettere la merlatura su questi muri in questo modo potremmo avere più potremmo anche mandare i soldati qua ma in realtà non arriva nessuno con la scala eccoli qua si altano le frecce no no dove vai torna su immediatamente potete contare su di noi nessun problema ci muoviamo andiamo sarà una passione nessun problema ok direi che abbiamo vinto 10 selezioniamo le truppe e volevo approfittarne per fare una bella foto che verrà naturalmente usata come copertina perfetto eccoci qua torniamo qua allora qui non abbiamo tantissima gente qua come siamo messi possiamo fare un altro arciere cominciamo a fare un arciere e un po' di reclute perfetto e un po' di questi allora questi li mandiamo direttamente qua in cima le reclute però le le mandiamo qua ok ok cosa ci aspetta si mio signore come siamo messi abbiamo un sacco di legname vediamo come siamo cibo stanno calando mio sire cibo siamo comunque messi bene anche se dice che stiamo calando come viene birra siamo già a 15 e come persone 34 su 34 però abbiamo qualche disoccupato penso sì perfetto qui abbiamo una casa sono tutte case da 8 effettivamente allora vediamo se possiamo mettere giù no non ho visto bene da dove sono entrati ma penso da qua quindi noi andiamo a chiudere anche questo muro se è possibile allora arrivano da qua possono girare qua dietro qua dietro possono arrivare qua ma non dovrebbero poter andare oltre qua qui facciamo solo delle mura semplici qua proviamo a aumentare allora io vorrei fare un altro pezzo del camminamento ok così dovrebbero starci più arcieri ecco abbiamo i parassiti del lupolo fantastico allora questi io li mando qui anche se in realtà non so dove mi servirà mandarli ma ho paura che comunque qua ci sia un passaggio aperto che non vedo comunque la grafica bidimensionale è quella che abbiamo quasi finito le foreste ma abbiamo un sacco di legname da parte e stiamo anche continuando a portare barrile e barrile di birra potremmo mettere giù addirittura un altro birraio per accelerare il processo ma vediamo come siamo messi come lupolo però come lupolo siamo a zero quindi c'è poco da fare potete contare servono altre reclute sire allora con il legname rimasto io metto giù un altro produttore di archi potete contare su di noi ecco che arriva un altro attacco perfetto le truppe si dovrebbero avvicinare ora vediamo dove possono passare noi abbiamo un po' di truppe qua un po' di truppe qua e naturalmente tutti i nostri arcieri che possiamo tenere sul sui camminamenti sembra che qua ci sia un problemino vediamo se possiamo patcharlo ok gli arcieri sono andati gli altri stanno sbattendo contro le pareti e sono stati tutti sconfitti sembra che abbiamo abbastanza birra e quindi ora il serpente dovrebbe mandarci delle truppe aggiuntive che non so quanto ci serviranno in realtà ok possiamo non so neanche cosa fare qua perché in realtà e possiamo fare altri in attesa di ordini per il momento altre frecce e aspettiamo l'attacco finale soprattutto che ci mandino la birra che ci mandino la birra che ci mandino le truppe diteci cosa fare allora non penso che qua si possa si si può quindi in realtà costruisco anche una palizzata avanzata una anche qua non so se c'è non vorrei con questa palizzata in legno vabbè però facciamo la furba si facciamo questa porticina non so neanche sicuro ci sia una porta lì dentro allora possiamo però fare una cosa effettivamente fare così ok così qualcosa si vede va bene chiudiamo tutto qua non mi lascia costruire dappertutto qua invece mi fa tranquillamente fare l'altra palizzata ok e adesso aspettiamo i nemici si arrivano abbiamo un sacco di grano abbiamo moderatamente soldi allora facciamo rispondiamo queste alziamo le tasse e facciamo un altro paio di arcieri che arriva altra birra e purtroppo vogliono 20 di birra ma fortunatamente le stiamo già producendo stiamo andando a una velocità assurda infatti stavo chiedendomi se mi doveva chiedere altre 5 di birra ok questi li mandiamo qua e questo lo mandiamo qua in attesa non so più bene cosa fare nell'attesa comunque adesso dovrebbero arrivare altri barili tutti i nostri birrifici sono in piena produzione posso costruire altre posso costruire un altro coso qua perfetto un messaggio dallo scrivano notizie tremende sir il duca di truff ha occupato una delle contee neutrali ok nel mentre mandiamo su altri due un messaggio dallo scrivano la spedizione di birra è stata preparata e spedita al serpente speriamo che i rinforzi che ci ha promesso arrivino presto tanto i rinforzi non è che servano veramente per l'attacco finale ma avremo qualcuno giusto per combattere io in realtà i miei li manderei quasi quasi qua no ma in realtà no teniamoli dove sono se dovesse sfondare qualcuno e siamo quasi all'ultima battaglia abbiamo un sacco di pane nonostante tutto quattro fornai tre case proviamo a costruire anche un birrificio tanto le truffe questo edificio è senza mano d'ofera questo dovrebbe migliorare la qualità della vita un messaggio dallo scrivano le truppe promesse dal serpente sono arrivate sire ok abbiamo le truppe logicamente arrivano da fuori usiamole per testare se ci sono buchi nella difesa evidentemente ci sono dato che stanno entrando perfetto meglio così allora mandiamo sugli spalti questi e gli altri li lasciamo qua a combattere cosa ci aspetta mio signore gli scout indicano un esercito del ratto in rapido avvicinamento diteci cosa fare cosa volete immediatamente ci muoviamo ma si mandiamo anche anche le nostre unità a combattere e se ha finito io comunque proverei a chiuderlo questo buco e vediamo se arrivano questi nemici dai che siamo alla battaglia finale questi episodi sono sempre un po' lunghi ma sempre per il fatto che il gioco ha una velocità fissa anche una volta che è risolto tutto la partita dura quello che dura non c'è niente da fare le truppe del ratto ci stanno attaccando eccole qua le truppe del ratto partono subito le frecce vediamo dove vanno dovremmo aver di sicuro più frecce noi non si avvicinano neanche hanno troppa paura e vengono decimate assolutamente uh mezzi da sedio catapulte sinceramente non ricordo non ricordo una partita di test di aver messo il catapult di aver combattuto contro il catapulto ma comunque penso che ci siamo posso praticamente mandare questi a saltare è bello che parte l'urlo appena parte la carica sì mio signore si muoviamo andiamo nessun problema sì mio signore in attesa di ordine vado sempre pronto cosa ci aspetta facile sarà una passeggiata siamo sopravvissuti all'attacco nemico e abbiamo vinto anche questa partita contro il ratto penso che sarebbe meglio vittoria ok abbiamo perso un pochino più di truppe questo ha fatto perdere ci ha fatto fare meno punti e concludiamo qui questo episodio spero che anche questo episodio vi sia piaciuto nel caso lasciate un like se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e alla prossima